Saludici appassionati di Football Manager, qui con me come sempre c'è Mike 9490 Football Manager Italia Siamo qui di nuovo su Football Manager 2020 con il nostro mitico Spezia e oggi andremo a vedere praticamente le partite di ottobre quindi Perugia, Salernitana, Livorno e Pordenone Il file della partita col Perugia è stato praticamente cancellato dal programma quindi non vi faccio vedere la schermata iniziale con la formazione però è semplicemente la titolare quindi Capricas, Vignali, Capradossi, Magnani, Vitale poi ci sta ovviamente Ericsson, Baker, Ricci, Ricci di Gaudio e Galabinov come detto, purtroppo il programma mi ha fatto un bel danno alcuni file si sono cancellati, altri si sono corrotti altri praticamente sminchiandomi le impostazioni si vedono completamente a scatti quindi sto ovviamente rifacendo questi video molto prima dell'uscita perché comunque voglio il prima possibile risolvere questo problema spero che comunque abbiate capito la situazione e che comunque stiano uscendo dei buoni video che soprattutto vi piacciono comunque siamo all'undicesimo come possiamo ben vedere il Perugia è parecchio offensivo sta attaccando, qui quasi Giemmello sta trovando la via della rete per fortuna non è stato così subito però lo spezia riparte al dodicesimo ho deciso ragazzi di farvi vedere il partito un po' più per esteso perché ad esempio il match con Frosinone è cremonese non abbiamo visto praticamente nulla e quindi va bene così anche se a volte FM ci può dare delle immagini un po' a cavolo di cane ci accontentiamo intanto c'è Ricci Erikson tap in poco fortunato c'è adesso il calcio d'angolo e stiamo ancora ovviamente sullo 0-0 stiamo al diciottesimo minuto però vabbè nulla di fatto c'è Capone c'è Capone sulla sinistra ok viene fermato da Di Chiara ancora Capone Carrara Di Chiara sulla sinistra Oulai Oulai mi sa che questa azione sfumerà infatti siamo adesso al ventitresimo con Capone c'è Raikovic Baker la spara in avanti siamo adesso al ventisettesimo di nuovo con Capone da calcio d'angolo la cross al centro la spara fuori Capradossi c'è Galabinov sulla destra indietro per Scuffet scusatemi mi ero dimenticato non avevo messo Capricas ma Scuffet perché comunque Scuffet ha iniziato un po' a lamentarsi e quindi ho deciso di schierarlo titolare per qualche match anche perché comunque Scuffet è sicuramente un ottimo portiere Angela Angela Ghiomber Ghiomber tiene ancora il pallone c'è Angela il Perugia adesso attacca mantenendo anche il pallone sta giocando un'ottima partita la squadra Umbra per fortuna però riusciamo a recuperare c'è Ricci che ha passato a Ricci c'è Galabinov c'è Galabinov 1-0 Galabinov bene così bene così 1-0 1-0 Spezia dopo comunque un buon primo tempo appunto del Perugia finisce appunto il primo tempo passiamo in vantaggio e inizia il secondo direi di andare esattamente al cinquantottesimo condichiara che la passa a Dragomir c'è Iemmelo Iemmelo ancora per Dragomir la passa a Raikovic dall'altra parte per Benzar Benzar si accentra tenta il tiro ma nulla di fatto siamo adesso al settantesimo con lo Spezia che attacca c'è Baker da calcio d'angolo la cross al centro viene fermata però l'azione dello Spezia c'è il nostro giocatore Godi Onsen che abbiamo dato in pressa dal Perugia e vi dico già che non sta giocando quasi sempre titolare infatti adesso è subentrato e ha fatto un gol se non sbaglio in serie B diciamo ci aspettavamo un qualcosina di più dall'islandese qualcuno mi ha consigliato di tenerlo e proprio per questo comunque l'ho solo mandato in prestito e non venduto perché comunque Godi Onsen sicuramente può crescere siamo adesso al settantasettesimo abbiamo visto prima Falcinelli che stava trovando il pareggio per fortuna nostra così non è stato cioè Galabino ma adesso che la passa a Juan Ramos il neo entrato a posto di Vitamina Vitale Vitamina Vitale che è prezioso per questa squadra ma ovviamente ogni tanto ha bisogno un po' di di una pausa anche perché comunque ha la sua età c'è Mora anche lui subentrato ad Ericsson che la passa a Ricci però se non sbaglio questo è un gol in fuorigioco sì infatti viene annullato il gol bello l'assist bella l'azione ma nulla di fatto siamo all'ottantottesimo qui Raikovic ha un'occasione ghiottissima ma la tira centrale addosso a Scofette che fa il suo lavoro penso che questa non sia un'azione molto pericolosa c'è Ragusa Ericsson sì infatti vabbè andrà a sfumare siamo all'ottantanovesimo adesso con Ericsson da calcio d'angolo c'è lui non è proprio uno specialista ma non essendoci né Baker né Vitale non abbiamo più giocatori che li sappiano battere c'è Falcinelli adesso il contropiede del Perugia con Caviglia però viene fermato e calcio d'angolo ancora per il Perugia che può ancora ovviamente dire la sua può ancora pareggiare per fortuna c'è Scufette però che la para mancano solo i minuti di recupero c'è Ragusa adesso che attacca quasi perde il pallone c'è il calcio d'angolo bravo qui Ragusa che comunque ottiene un calcio d'angolo prezioso considerando che è quasi finita la partita doveva forse giocarsene un po' di più sulla bandierina Juan Ramos quasi stava segnando il gol del 2 a 0 siamo al 94esimo circa 93esimo e 50 secondi c'è Vignali che la passa al buon di Gaudio c'è Ramos che poteva crudere la partita così non è stato ma la chiude l'arbitro 1 a 0 Spezia il Perugia ha sicuramente giocato meglio di noi però per una volta siamo stati abbastanza cinici e abbiamo portato a casa 3 punti con il Salerno ritorna la formazione completamente titolare ritorna a giocare anche Kravikas nei primi 90 minuti anche qui ragazzi purtroppo il file è stato cancellato quindi non vi posso far vedere la formazione iniziale cosa che potremmo vedere invece nelle prossime due partite siamo al secondo minuto c'è Ricci Salernitano che comunque ha un'ottima squadra ha comunque ragazzi un buon allenatore sicuramente per la Serie B che è Ventura anche se ovviamente dagli italiani non è molto amato però insomma sicuramente per la Salernitana almeno qui sul gioco è un buon allenatore sta facendo abbastanza bene e c'è Baker che la passa dall'altra parte per Ricci al centro c'è Galabinov c'è Vignali qui siamo al terzo minuto cross al centro Galabinov non riesce a trovare il gol a causa della parata di Mikai siamo al terzo minuto con Vitamina Vitale Vitamina Vitale per Baker viene fermato da Capezzi c'è Cerci Cerci dall'altra parte per Jelov bravo qui però Krapikas che ferma l'azione offensiva della squadra di Salerno e arriva al uno dei primi gol che facciamo da calcio d'angolo assist di Baker gol di Capradossi scusate non mi veniva al ventiduesimo al ventesimo minuto circa attacca però subito la squadra di Salerno con Erto che la passa a Cerci Cerci sulla fascia destra cerca mamma mia ragazzi che assist che sta facendo per Jelov ha fatto tipo una rabbona in pirouette però vabbè siamo al ventiquattresimo azione di nuovo della squadra di casa con Mikai Mikai dall'altra parte per Ricci per fortuna c'è Vignali che la passa a Baker Baker ancora gestisce c'è Ericsson Ericsson dall'altra parte però per la terra di nessuno infatti c'è Lombardi l'attacco adesso della Salernitana la passa a Jelov che è velocissimo e viene a stento fermato da Capradossi l'autore anche del gol inizia qui il secondo tempo il primo tempo abbastanza scialbo visto solamente il gol importantissimo della nostra squadra della Spezia e cerchiamo di resistere c'è Capezzi Capezzi che la passa a Mantovani Mantovani dall'altra parte per Jarskowski non lo so non l'ho letto c'è Cerci Cerci vuole la botta c'è Jelov c'è anche l'ottima parata di Krapikas Capezzi ancora da calcio di punizione siamo al 53esimo adesso viene doppiamente fermato dai nostri giocatori Baker da calcio di punizione Jelov contropiede della squadra di casa ancora Jelov si accentra fa tutto il campo lui da solo poi però il tiro a causa anche della stanchezza è veramente molto molto scarso siamo al 77esimo c'è ancora la squadra di casa che attacca Ericsson regala il pallone probabilmente a qualche suo amico Campano Cerci ancora cross al centro c'è Jelov siamo al 79esimo ancora una 0 Spezia Cerci qui mette diciamo a rischio la porta di Krapikas c'è Cicirelli ma Magnani lo ferma siamo all'ottantesimo adesso c'è Juan Ramos tiene il pallone c'è Nzola che è entrato al posto di Galabinov Ramos tenta il tiro e cerca il gol ma non lo trova assolutamente siamo al 91esimo la partita è andata avanti 10 minuti ovviamente di sofferenza dello Spezia ma siamo ancora sull'1-0 Capradossi qui ferma molto bene l'attacco del velocissimo Jellov marcature strette per lui giocatore che comunque ci ha messo in grande pericolo certo c'è Mikai ancora la palla della salernità dalla Spezia deve tenere il risultato visto che servono tre punti importanti in una partita non giocata al meglio però insomma sarebbe importante vincerla ma poi ovviamente ragazzi arriva il famosissimo e bellissimo gol del 92 al 92esimo nella registrazione che praticamente non diciamo si è cancellata avevo detto cose poco felici insomma potete immaginare ragazzi gol al 92esimo è una delle cose più brutte che si possono ricevere poi vabbè questo di solito FM ti regala sempre almeno durante la stagione due o tre pareggi due o tre sconfitte per gol all'ultimo secondo questo oramai è un classico da un bel po' di anni e ovviamente lo fa per corrodere i fegati di tutti noi è successo anche adesso ovviamente adesso sono più sereno perché l'ho digerito questo risultato quando l'ho vissuto insomma non ero così allegro e pimpante però insomma non è che possiamo vincere tutti abbiamo perso col Frosinone dopo due partite abbiamo trovato questo pareggio con la Salernitana va bene così ragazzi insomma e comunque stiamo avendo un ottimo percorso finisce qui la partita ovviamente potete immaginare che ai ragazzi di casa non ho detto andiamoci a mangiare una pizza insieme ma anzi le avrei voluti uccidere però insomma comunque non possiamo dire niente la Salernitana ha più che meritato questo pareggio nonostante sia arrivato al 92esimo noi potevamo giocare sicuramente meglio cosa che spero riusciremo a fare nei prossimi match contro il Livorno ritorna la squadra titolare Krapikas Vitale Magnani Capradossi Vignali Ericsson Baker Ricci Di Gaudio Ricci e Galabinov loro giocano con Zima Agardius Silvestre Bogdandi Gennaro Lucia Gazzi Marsura Brachen Marras e Brignola con Livorno speriamo di portare a casa i tre punti i tre punti che abbiamo perso sia nella partita con il Frosinone sia nella partita con la Salernitana l'ultima ovviamente la più cociente visto che abbiamo perso ben due punti al 92esimo intanto attacchiamo subito neanche 4 minuti c'è Ricci che la passa a Ricci e segna appunto Ricci assist e gol dei due gemellini bene così ottimo inizio è un gol importante ecco perché ovviamente i giocatori potevano un po' ammosciarsi dopo il pareggio all'ultimo con la Salernitana invece no partiamo subito forte infatti anche Magnani stava segnando il gol del 2 a 0 stessa sorte adesso per Capradossi però il suo tiro anche viene fermato adesso siamo al 35esimo minuto c'è Bogdan che la passa a Di Gennaro tempo reggiano un po' troppo la squadra in trasferta infatti Di Gaudio ne approfitta però poi tira una mozzarella e Zima para agevolmente siamo subito al secondo tempo come avete potuto ben vedere il primo tempo abbastanza scialbo solamente Spezia che però ha sprecato fin troppe occasioni cosa che probabilmente succederà anche adesso infatti c'è Baker che tiene il pallone e c'è Ricci che la spara al di fuori dello specchio della porta c'è adesso Vignali con Galabino ancora Vignali tiene il pallone c'è Baker Vignali l'imperativo di oggi è vincere considerando anche le tantissime occasioni sprecate sarebbe veramente una beffa adesso pareggiare così come è successo appunto a Salerno e c'è adesso Magnani la passa di nuovo a Capricas Scrapicas non so perché lo chiamo Capricas c'è Di Gennaro Di Gennaro però la regala a Di Gaudio Ricci Ericsson Ricci bellissimo nel passaggio per Vitamina Vitale Vitale indietro per Di Gaudio Di Gaudio che però tira addosso praticamente a un muro di maglie toschiane ancora se non sbaglio era sempre Di Gaudio che regala il pallone a Zima siamo adesso all'ottantaseiesimo secondo tempo veramente brutto e scialbo e diciamo proprio adesso che il Livorno potrebbe fare male c'è Brigno no non ho letto il nome c'è Mazzeo e stavamo praticamente replicando la partita scorsa infatti ci stavano per segnare negli ultimi secondi e punizione adesso vabbè meno male fallo della squadra di trasferta siamo ancora all'ottantottesimo partita ancora viva c'è Di Gaudio che si accentra c'è Zola che però viene fermato da Bogdan Zola devo essere sincero non è un attaccante che mi sta piacendo tanto voi ovviamente vedendo solamente gli highlights non potete vedere il contributo di Zola ma non l'ho visto nemmeno io il contributo di Zola nonostante abbia visto tutte le partite devo dire che non non è un grande attaccante e qui Ricci credo che si faccia ammonire non credo proprio espulsione sarebbe ridicolo si ma ancora chiamata vabbè siamo al 92 c'è ancora Zola che io avevo diciamo rinominato Gorgonzola e vabbè insomma diciamo che ha la stessa consistenza del formaggio però vabbè c'è Dabbo Vignali Vignali sulla destra Vignali che la passa a Capradossi maggiore maggiore dall'altra parte però viene fermata da Di Gennaro siamo al 93 è il minuto che potrebbe di nuovo farci beffe però speriamo di no c'è Dabbo Vitale Vitale sulla sinistra ancora Vitamina Vitale c'è Ericsson Ericsson la passa maggiore maggiore di Gaudio di Guadio vabbè finisce la partita 1-0 meno male meno male e ecco non parlo ragazzi non commento neanche abbiamo stradominato questa partita però il problema di questo FM è sempre quello cioè nonostante le mille occasioni che crei alla fine fai a stento un gol è capitato ultimamente di fare delle partite dove siamo riusciti a segnare anche tre gol però la maggior parte insomma è questo che ti vede stradominare la partita e fare a stento un gol alla fine è successo bene o male anche con la salernità nel primo tempo che abbiamo creato occasioni ma praticamente abbiamo fatto a stento un gol contro il Pordenone turnover completo gioco a scuffette Ramos Marchizza Terzi Antonito Maggiore Mora Dabbo Unuvar Ragusa e Nzola per la partita con il Pordenone vi faccio vedere solamente gli highlights diciamo le partite un po' più così ragazzi sono un po' più veloce andiamo un po' più velocemente c'è subito la Spezia che attacca c'è Ragusa che la passa però alla squadra di casa c'è Tremolata che attacca bravo a cui Luca Maura ma mantiene ancora il pallone il terzino sinistro qui ci sta poi Strizzolo se ho letto bene che stava cercando un Euro goal cosa che però non gli è riuscita Naci Unuvar la passa a Guarramos c'è Marchizza che tiene il pallone che è stato già ammonito c'è Ragusa Ragusa ancora si accentra la passa al giovinastro Naci Unuvar tiene il pallone la passa a Maggiore c'è Guarramos Cenzola che però non riesce a trovare il tap-in vincente di testa siamo già al 62esimo c'è Dabo e c'è anche il goal di Maggiore assiste goal di due giovinasti di due futuri campioni qui a centrocampo con la maglia appunto dello Spezia almeno me lo auguro soprattutto se non chiedono la cessione attacca il Pordenone arriva il goal però è fallo insomma hanno fatto fallo in attacco se non sbaglio quindi viene annullato siamo adesso al novantesimo c'è Juan Ramos che è la passa maggiore c'è Naci Unuvar dall'altra parte per Ragusa viene fermato però siamo al novantesimo c'è Marchizza c'è Candellone Candellone si accentra bravo però qui Scoffette a parare e finisce anche la partita ragazzi ve l'ho saltata perché non è stata una partita molto esaltante c'è stato sì il goal annullato dei padroni di casa c'è stato sì uno Spezia che ha fatto abbastanza schifo come possiamo vedere dalle statistiche però insomma abbiamo giocato praticamente con l'11b l'11 di riserva e ugualmente abbiamo portato a casa i tre punti insomma direi molto bene ecco detto ciò direi che ci possiamo salutare qui in questo episodio abbiamo visto quattro match nel prossimo ne andremo a vedere tre bene evento US Tabbia e Travani quindi andiamo a finire pure novembre e poi ragazzi dopo quello ci sarà l'ultimo episodio cioè quello di dicembre ultimo episodio con praticamente gli highlights e diciamo che così finalmente potremo ritornare alla alla normalità spero che comunque questa tipologia di video vi stia piacendo diciamo che purtroppo sono abbastanza obbligato e quindi vabbè andiamo avanti andiamo avanti detto questo io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto come sempre c'è un like commentate condividete fate tutto ciò che vi pare grazie sempre per tutto e come sempre un saluto da Mike94 ovviamente anche da Football Manager Italia ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti